Salve amici del Centro Meteo Italiano, giungolo conferme dai principali modelli per una nuova intensa fase di maltempo con il secondo weekend di marzo. Prossimi giorni che vedranno intanto condizioni meteo instabili sull'Italia, prima al centro nord e poi al sud, con neve localmente fin sotto ai 1000 metri. Temporaneo miglioramento per giovedì, quando però una nuova circolazione depressionaria si avvicinerà dall'Europa occidentale. Vortice sulla Francia tra sabato e domenica, come al tempo anche intenso sulla nostra penisola a partire dalle regioni del centro nord. Clima non particolarmente freddo, ma con neve abbondante anche in montagna. Alta pressione in rimonta sui settori occidentali del continente a seguire, correnti più fredde dall'Europa orientale verso il Mediterraneo centrale entro metà mese. Data comunque l'incertezza, seguite allora tutti i prossimi aggiornamenti sia sul nostro sito che sul nostro canale YouTube. Un saluto da parte del Centrometro Italiano.